Ecco il suo parmacotto. Grazie. Oggi è andato bene Spartaco. No! Senta, mi farebbe anche duetti di parmella? E che ha parmella? Un gioco di parole? Parmella! La mortadella farcita di parmella. Lei parmacotto, e non ce l'ho, signora. Serve parmella? Parmella? Ti piace la parmella? A me piace meno. Sì, è pure fior del riso. Ma fa la fine, non va la ora. Adesso arriva subito la sua parmella. Perdoni, il ragazzo è frivolo. Parmella, la mortadella farcita di magro. E si vede.